Se date un'occhiata al piano di studi dell'indirizzo scientifico potete capire la sua caratteristica. Non vengono trascurate le materie di tipo umanistico e viene lasciato spazio alla fisica fin dal primo anno. I professori infatti vi guideranno alla scoperta delle materie scientifiche attraverso esperimenti di laboratorio, ricerche e osservazioni in un lavoro di squadra teso a raggiungere uno scopo comune. L'esame scritto finale oltre all'italiano vi vedrà impegnati in una prova di matematica e di fisica per la quale sarà necessario sviluppare una buona competenza di analisi. Ma non abbiate paura perché a questo vi prepareranno i professori e l'allenamento dato dallo studio di una materia molto particolare, il latino. Il latino insegnato allo scientifico vi aiuta ad analizzare e a mettere insieme teoria e pratica in modo da riuscire a risolvere un problema in un'altra lingua, come la matematica. Del resto si parla di analisi grammaticale, logica e matematica, giusto? Queste e altre molte altre scoperte sono pronte per voi. Lo scientifico prepara anche una scelta ampia e consapevole dopo il diploma, grazie al metodo costruito nei cinque anni di liceo. Quindi perché dovresti scegliere proprio il volta? Perché è una scuola a misura di studente ma non è nemmeno troppo piccola? Perché vi si trovano un sacco di stimoli per chi si lascia coinvolgere dalla curiosità? Perché i due indirizzi convivono in perfetta armonia, a dimostrazione che scientifico e umanistico si possono unire? Perché una scuola in centro a Como è una volta usciti sia un'intera città ricca di occasioni culturali? Perché uniamo mondo scientifico e umanistico, come hanno fatto prima di noi Leonardo, Galilei e il nostro stesso Alessandro Voltro. Vi aspettiamo nel cuore di voi per raggiungere anche il vostro cuore al nostro.